E' stato rintracciato e fermato a luna della notte scorsa dai carabinieri che erano ormai sulle sue tracce il sessantenne autotrasportatore di Sant'Ippolito che alle 19.30 di ieri aveva sparato ad una gamba nel cortile di casa ad un imbianchino di 38 anni con il quale aveva un debito per lavori di tenteggiatura effettuati in una sua abitazione che ammontava a diverse migliaia di euro. Lo sparatore si era addormentato all'interno della cabina del suo camion in una piazzola di sosta fuori dal casello della 14 di Rimini Nord. I carabinieri una quindicina con un'azione sinergica hanno accerchiato prima il mezzo e poi immobilizzato l'uomo. Il sessantenne aveva nella tasca dei pantaloni ancora il bossolo della sua Smith & Wesson calibro 38 a Tamburo con la quale poche ore prima nei pressi della sua abitazione in via Rossini nella frazione di Pian di Rose aveva fatto fuoco sull'imbianchino di origini albanesi. Ma residente a Fano che era andato a chiedere il saldo dei lavori assieme ad un suo conoscente di 33 anni in bianchino anch'esso ma di origini moldave. Sembrerebbe che all'origine dell'alterco tra i tre stia il fatto che il preventivo dei lavori eseguiti dai due in bianchini fosse lievitato di diverse migliaia di euro rispetto alla cifra iniziale e per questo il sessantenne non era in accordo con i due. E' stato lo stesso ferito rimasto sempre cosciente a terra nonostante la ferita a mettere sulle stracce del suo assalitore i carabinieri arrivati sul posto chiamati dai residenti e che hanno iniziato una vera e propria caccia all'uomo nelle ore successive. E grazie alla collaborazione dei colleghi di Fossombrone e Pergola assieme al nucleo radiomobile di Fano, coordinati dal comandante Luigi Grella assieme ai colleghi del nucleo investigativo ed operativo di Pesaro, sono presto arrivati a rintracciare il fuggitivo che, lasciata l'arma in casa, si è dato alla fuga con il suo stesso cane. L'uomo incensurato, sposato e con figli è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per lesioni gravissime e porto d'arma abusivo. Gli sono state inoltre sequestrate dalla sua abitazione un'altra pistola e due fucili, oltre ad un centinaio di munizioni, il tutto regolarmente denunciato. L'albanese ferito è stato trasportato poi dal 118 d'urgenza in codice rosso al torrette di Ancona, da dove è stato dimesso nella mattinata di oggi con una prognosi di 30 giorni.